In Molise calano le denunce di infortunio sul lavoro, ma crescono le malattie professionali. Daniela Lombardi. Nella 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha elaborato gli ultimi dati diffusi dall'INAIL per tracciare un bilancio del fenomeno. Sono ancora tanti, troppi, i decessi e gli infortuni, come segnale il presidente dell'ANMI, il Campobasso, Giovanni Padulo. Nonostante siano calate in Molise le denunce di incidenti sul lavoro nei primi otto mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, si è passati da 1722 a 1133 denunce totali, numeri che fanno della nostra regione una delle migliori in Italia da questo punto di vista. Scendono anche le denunce di incidenti mortali, che passano da 5 tra gennaio e agosto 2022 all'unica registrata quest'anno. Le denunce di malattie professionali sono invece più che raddoppiate, passando da 182 a 392, una crescita del 115%, la più alta di tutto il paese. Per ricordare la necessità di una revisione del testo unico infortuni, ribadire l'importanza di formazione e prevenzione per spezzare la catena di morti quotidiana e promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche in città, che possono limitare lo svolgimento di una vita normale a chi è rimasto coinvolto in un infortunio, l'ANMI l'ha omaggiato le vittime, deponendo una corona sul monumento all'oro dedicato a Campobasso. L'associazione, giunta all'ottantesimo anno di battaglie su questo fronte, ha ribadito che la strada da percorrere è ancora lunga.